Altri sette giorni di sciopero alla Santa Croce, lunedì è previsto l'arrivo di altri camion. La sconfidi tende una mano alle imprese in difficoltà, garantire finanziamenti allogati alle banche convenzionate. Dieta mediterranea, invenzione o realtà storica, è titolo del convegno organizzato da Lions Club di Avezzano. Calcio e riappuntamenti della domenica, serie di Avezzano, Monterosi, Eccellenza, Alba Adriatica Paterno, Capistrello, Miglianico. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In primo piano la cronaca è stata ritrovata purtroppo senza vita. La 27enne Elisabeth Matthews, giunta lunedì scorso nell'albergo di Campo Imperatore sul Gran Sasso, da dove si era allontanata precipitosamente dopo aver lasciato alcuni bagagli in camera. Il corpo è stato individuato dal personale del soccorso alpino e spieleologico sul ghiaglione a nord di Cima Portella, a 2200 metri di quota. Circa a 200 metri più in alto è stato trovato il suo zaino. Dal frettoloso allontanamento della giovane tedesca erano stati informati i carabinieri della stazione di Assergi. Alle ricerche avevano preso parte da subito con i carabinieri personali di finanza e forestale. I carabinieri escludono il coinvolgimento di tersi, ma non possono dire se si sia trattato di gesto volontario o di incidente. Per lunedì il magistrato che coordina le indagini, Fabio Picuti, della Procura della Repubblica dell'Aquila, ha disposto la riconizione cadaverica. Solo in seguito si valuterà se procedere o meno all'autopsia. E torniamo adesso a parlare della vertenza Santa Croce. Sindacati e lavoratori dell'azienda di Canestro hanno deciso in un'assemblea di proclamare altri sette giorni di sciopero, con presidio dello stabilimento. I lavoratori sono scesi in piazza dopo che la mancata intesa sindacale ha ufficializzato i termini delle procedure di mobilità. Infatti a partire dal 21 novembre prossimo, a meno di clamorosi eventi, la società Santa Croce potrà licenziare 75 lavoratori, di cui una cinquantina da tempo in cassa integrazione. Ma questa situazione si è giunti al culmine di un muro contro muro, caratterizzato da un duro contenzioso giudiziario, tra cui richieste di risarcimento danni, e tra la regione e il patron Camillo Colella, il quale ha ripetuto di aver dovuto avviare le procedure di mobilità in seguito ai tanti dinieghi della regione che ha revocato la concessione posto ai sigilli per irregolarità sempre negate dall'azienda, del documento di irregolarità contributiva. L'ente regionale che ha pubblicato il nuovo bando nei giorni scorsi, ha accusato la Santa Croce di aver continuato a captare acqua dalla sorgente di canestro. Nei giorni scorsi la procura di Avezzano ha dato mandato ai carabinieri di sequestrare la valvola d'ingresso. Colella mercoledì scorso, come si ricorderà, rimasto per alcune ore fino a sera, con una ventina di autotrasportatori che non hanno potuto caricare l'acqua da consegnare in giro per l'Italia all'interno dello stabilimento assediato dai lavoratori. E per lunedì si annuncia l'arrivo di altri camion. Stretti nella morsa tra la crisi dei consumi e la proliferazione della grande distribuzione organizzata per di più straniera, la sconfì di imprese cooperative di garanzia della Confcommercio cerca una strada per draghettare le piccole imprese fuori dal guado con finanziamenti garantiti a tasso agevolato. Il bilancio è spaventoso, spiega il presidente Roberto Donatelli. Molte realtà costrette a pagare il prezzo di questa situazione sono ditte individuali, ma spesso si tratta di piccole imprese familiari e questo significa che siamo di fronte ad un'emergenza sociale. Le cause di questo trend negativo, come detto, sono da cercare in particolare nella concorrenza delle grandi insegne e nelle grandi crisi generalizzata dei consumi, ma anche nel peso della fiscalità ormai insostenibile per la maggior parte degli operatori. Preoccupazioni anche per il futuro, continua Donatelli, se venissero confermate le indiscrezioni sull'aumento dell'IVA nel 2018, che può salire fino al 25%. L'obiettivo di sconfi di imprese è di dare quindi ossigeno a queste imprese, garantendo i finanziamenti erogati dalle banche convenzionate. Stiamo rilevando una sostenuta crisi di liquidità nel settore terziario, prosegue sempre Donatelli, e a farne le spese sono soprattutto le piccole imprese del commercio a del taglio ai pubblici esercizi. Per le imprese in difficoltà e per quelle che mostrano segni di ripresa, a sconfi di imprese è un solido punto di riferimento, anche alla luce della riforma dei confidi, che impone di valutare più attentamente il merito creditizio delle imprese, diversificando di conseguenza il costo del denaro. Una serata all'insegna della buona tavola, con uno specifico riferimento alla dieta mediterranea, e benefici effetti che questo stile alimentare genera su chi riesce a seguirlo. Se ne è parlato nel corso della combiviale che ha organizzato il Lions Club di Avezzano, e che ha fatto registrare la presenza di un illustre antropologo, il professor Ernesto Di Renzo, docente all'Università Romana di Tor Vergata. Dieta mediterranea, invenzione o realtà storica? Questo è il titolo del tema che il professor Di Renzo ha trattato nel corso della serata. Le interviste che vi proponiamo le ha realizzate il collega Plinio Olivotto. L'abbiamo lasciato come ha detto Stampa, perché questo è il suo mestiere, il suo lavoro. Lo ritroviamo come presidente del Lions Club di Avezzano. Il collega Eliseo Palmieri. Un evento particolare questa sera, uno di questi tempi magari si aspetta di parlare di terremoto, ma non è così, perché gli eventi vanno preparati per tempo, e gli ospiti vanno contattati assolutamente per tempo. Questa sera si parla di dieta mediterranea. Ecco, la scelta su questo argomento. La scelta è venuta anche perché quest'anno, oltre al cinquantenario del club, il Lions internazionale compie 100 anni, e quindi i temi di questo centenario sono appunto la fame, i giovani, la vista e l'ambiente. E quindi noi anche in questo contesto vogliamo che uno di questi temi, la fame naturalmente può sembrare paradossale in una serata come la nostra, tutti belli achindati, tutti pronti a casomai a gustare le prelibatezze della dieta mediterranea. Però vuole dare appunto questo significato, che il benessere però deve anche guardare a chi invece non ha queste possibilità. Quindi non so, in Africa, in tanti paesi dove adesso c'è la guerra, dove ci sono tanti bambini, dove ci sono tante necessità, e siccome il Lion è portato a dare solidarietà a questi popoli, e allora noi vogliamo con questa iniziativa anche dare uno sguardo oltre quelle che sono le nostre aspettative, oppure le nostre abitudini. La dieta mediterranea perché non vogliamo però scimmiottare le trasmissioni televisive che ormai ci stanno, se ne vede una Iosa, che parlano di cibo, che parlano di ricette con questi chef così importanti, eccetera. No, noi vogliamo parlare delle tradizioni, oltre naturalmente alla dieta mediterranea che è fatta di prodotti dell'agricoltura, dell'ambiente, eccetera. Noi vogliamo anche ricordare quelle che sono le tradizioni, le tradizioni, gli usi, i costumi e tante ricette della nonna. Insomma, questo è lo scopo anche di questa serata, di essere così, di stare insieme intanto innanzitutto, perché questa è la prima conviviale dopo il mio insediamento. Perché sì, abbiamo iniziato l'attività l'altro mese, siamo andati alla costa dei Trabocchi e anche lì abbiamo voluto, con un menù di pesce tradizionale abruzzese, abbiamo voluto iniziare questo percorso che ci deve portare in quest'annata, diciamo che speriamo che sia abbastanza tranquilla, non voglio anticipare nulla perché poi insomma il consultivo si fa alla fine. Voglio dire, deve essere anche basata su tante tradizioni abruzzesi, i luoghi abruzzesi, le tradizioni. E il professor Di Renzo... Ecco, chi è il professor Di Renzo? Ce lo puoi anticipare? Il professor Di Renzo è un docente dell'Università di Tolvergata, è un antropologo, è un conferenziere eccellente, non è molto conosciuto ad Avezzano, anche se è venuto tante volte, viene spesso, credo ancora ai familiari, molti amici, molti estimatori, ed è una persona che porta le nostre usanze, le nostre tradizioni, anche fuori dall'Abruzzo, fuori da Avezzano, anche in Italia. E quindi è un bravo conferenziere che è un antropologo, non può che essere così. Però voglio dire, lui piace voler insistere su queste cose che caratterizzano le nostre abitudini, le nostre tradizioni, i prodotti tipici, eccetera. Senti, i piatti sono ancora immacolati, ma dentro ci metterete prodotti della dieta mediterranea, voglio sperare. Se mi consenti... Allora, leggici un po' il menù. Il menù ha i sapori d'autunno. Il menù ha i sapori d'autunno, sfornatino di parmigiana di zucchine e specche, crostino con pacchetta e tartufo, fiori di zucca, poi gnocchetti e ceci con funghi porcini e castagne, chitarrina alla carrettiera, lombo di maiale steccato, verdure mantecate, spicchi di patate dorate, cesti di uva in festa. Questo è tipicamente autunnale. Ecco, poi chiederemo conferma comunque al professore. Beh, è chiaro. Il professore poi ci metterà un voto, chissà, giudicherà lui alla fine. Pensavamo di incontrare una persona tanto avanti con gli anni, invece mi permetta questa licenza. Troviamo un giovanotto. Il professore Ernesto Di Renzo è un marsicano. E ci tiene a questo. Sì, sono marsicano, sono avezzanese e diciamo che mi sento sempre di più sia marsicano che avezzanese da quando vivo fuori. Vivo a Roma perché lavoro lì, insegno all'Università di Roma e poi mi capita di viaggiare molto per lavoro. Allora, questa sera si parla di dieta mediterranea. Se ne parla da anni ormai. Dieta mediterranea sì, dieta mediterranea no, ma è vera, è reale o è un'invenzione magari dei cuochi? Più che dei cuochi, è un'invenzione però dei nutrizionisti. Nel senso, dire che invenzione ovviamente non toglie nulla al valore, al significato, però è una constatazione. Il fatto che prima degli anni 50, della fine degli anni 50, il termine stesso dieta mediterranea non esisteva. è un modello alimentare che è stato elaborato da un fissiologo americano, Ancel Keys, che ha fatto i suoi studi in Italia e ha visto come certi regimi alimentari, soprattutto delle aree del sud e delle aree rurari, erano particolarmente compatibili con dei livelli di vita molto salutari, ottimali. E quindi ha creato questo concetto. Però la dieta mediterranea è di fatto un'astrazione, nel senso che si è preso quanto all'interno del bacino del Mediterraneo avesse certe caratteristiche, lo si è isolato dal contesto e lo si è identificato come un modo di mangiare utile per perseguire obiettivi di salute e obiettivi di benessere. Però mi permette di obiettare, professor Direnzo, che non sempre è facile reperire, almeno negli ultimi anni, in Italia quei prodotti che fanno parte della dieta mediterranea. Spesso ci vengono propinati prodotti che provengono dall'estero ma che hanno pochissimo, quasi nulla da dividere con i prodotti della dieta mediterranea. E allora? E allora, dieta mediterranea, adesso al di là di quello che normalmente viene detto e viene codificato, la famosa triade mediterranea, olio, vino, pane, frutta, vegetali, ecco, al di là dei singoli elementi costitutivi, di fatto la dieta mediterranea identifica soprattutto un modo di mangiare coerente con gli aspetti produttivi del territorio. Dieta mediterranea significa essenzialmente tre cose, stagionalità del mangiare, territorialità dei prodotti e soprattutto modo di mangiare, ossia la convivialità del mangiare. La dieta mediterranea è uno stile di vita, è uno stile di vita che assembla attorno alla tavola, assembla valori come quello delle tradizioni, come quello dei saperi orali, come quello del modo in cui l'uomo si rapporta all'ambiente nel quale vive, ma soprattutto è un modo di mangiare assieme. Ecco, se dovessimo dire al netto di tutto che cos'è la dieta mediterranea, la dieta mediterranea è uno stile di vita, uno stile salutare di vita che associa a certe tipologie di prodotti certe modalità del mangiare. Quindi nutrizione ma anche salute perché bisogna fare attenzione soprattutto ai grassi che oggi se ne consumano in abbondanza. Nutrizione ma soprattutto benessere. La salute è certamente un aspetto costitutivo, ma quello che la dieta mediterranea intende perseguire è un benessere, è un benessere olistico, un benessere complessivo della persona che include anche la salute, ma che va anche oltre la salute. Perché la dieta mediterranea non è riconducibile o semplicemente limitabile a un regime nutrizionale. Se così fosse non avrebbe avuto il riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. L'UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità non in quanto regime nutrizionale, altrimenti avrebbe dovuto riconoscere anche la dieta Dukan, anche la dieta, tutte le diete che è la dieta zona, perché comunque tutte le diete perseguono lo stato di salute della persona. Nel caso della dieta mediterranea il vero valore è quello dello stile di vita. Dieta, così come l'ha concepito Ancel Keys quando ha coniato questo termine che non esisteva prima. Dieta è proprio un termine che viene dessunto dal greco, dal significato etimologico greco di aita, che significa proprio stile di vita. Quindi nel caso della dieta mediterranea noi ci dobbiamo dinanzi ad un modo del mangiare che non è semplicemente un modello, non è semplicemente un protocollo di cibi, un protocollo nutrizionale, ma è un modo di mangiare inclusivo che riguarda, sì c'è altri prodotti, ma riguarda poi anche il valore che l'uomo dà al cibo, il valore in cui l'uomo produce il cibo, il valore in cui l'uomo trasmette i valori del cibo. Ecco, tutto questo è dieta mediterranea. Un'ultima cosa, fra i paesi che possono vantarsi di far parte della dieta mediterranea, ultimamente è stata giunta la Croazia. Insomma, un tantino, un po' fuori dal bacino del Mediterraneo, no? Sì, ma proprio per questa ragione che le sto dicendo, perché la dieta mediterranea non è un modo di mangiare esclusivo del Mediterraneo, è un modo di mangiare basato su quei principi, per cui chiunque riconosce quei principi come validi, come condivisibili del mangiare, può entrare a far parte di questa candidatura. Lei ha citato la Croazia, oltre alla Croazia nel 2013 c'è stata l'introduzione anche di Cipro e del Portogallo. Nel senso che cosa hanno fatto? È chiaro che il Portogallo non è mediterraneo, però loro hanno detto, riconosciamo i valori, i contenuti, i significati di quel modo di mangiare, che non significa soltanto di quegli alimenti, ma proprio del modo di rapportarsi al cibo, del modo di mangiare, questa è la cosa importante, il mangiare assieme. Diceva Plutarco, noi non ci sediamo a tavola per mangiare, noi ci sediamo a tavola per mangiare assieme e la dieta mediterranea, tra tutte le altre cose, e anche questo è un modo di condividere assieme il cibo e di riconoscersi come simili. E tutto questo genera benessere, genera benessere della persona, perché poi la salute è sì legata all'assenza della malattia, ma il concetto di salute oggi è un concetto molto più ampio, è un concetto che include anche il nostro stato emotivo, il nostro stato psicologico, include tutti gli aspetti della persona. Torna l'ora solare questo weekend, nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre, ricordatevi di portare le lancette dei vostri orologi indietro, di un'ora si guadagnerà un'ora di sonno in più. La sera però, attenzione, vedremo calare il buio molto prima. L'ora solare non è amata da tutti, anzi, c'è addirittura chi vorrebbe abolirla, come il Kodakons, che a marzo chiese fosse lasciata l'ora legale tutto l'anno. Sembra che il cambio ora possa generare sintomi come stress, stanchezza, spossatezza, inappetenza, problemi d'umore e difficoltà di concentrazione, oltre ai disagi dovuti all'aggiustamento dell'orario, come l'aggiustamento di numerosi strumenti elettronici. L'ora legale, dal canto suo, ci lascerà per diversi mesi e farà ritorno solo nell'ultima settimana di marzo 2017. Nel dettaglio il cambio ora avverrà tra le 2 e le 3 di notte. Sin dalla domenica perceperemo quindi le giornate come più brevi, perché il tramonto avverrà prima. Fabiana Marianella, il nuovo assessore del Comune di Avezzano, la nomina è venuta a Palazzo di Città, dove il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha ufficializzato a Marianella le deleghe alle politiche giovanili, creatività di innovazione, pari opportunità, swap, commercio, industria e artigianato, tutela dei consumatori, fiere i mercati, pubbliche affissioni e rapporti con l'Europa. E con grande soddisfazione chiedo il benvenuto al nuovo assessore, ha dichiarato il sindaco, una giovane professionista avezzanese, che sono certa a mettere al servizio della città le sue comprovate esperienze immaturate sia in ambito nazionale che internazionale nella consulenza fiscale e aziendale. All'assessore Roberto Verdecchia passano invece le deleghe alla viabilità, aree verdi e arredo urbano. Per dare incontro alle esigenze di coloro che non possono fare uso del mezzo proprio per recarsi al cimitero, la società cooperativa Scava di Avezzano effettuerà nei giorni il 1 e il 2 novembre corse da e per il cimitero ogni ora dalle 9 alle 16 con partenza da via Marconi i Portisci per intenderci. L'ultima corsa di ritorno dal cimitero verrà effettuata alle ore 17 e 15. L'apertura dello sportello del lavoro dell'associazione sindacale e datoriale CUNAPI l'Aquila avvierà la sua attività a partire dal prossimo 21 novembre e sarà aperto al pubblico presso la propria sede di Avezzano. A renderlo noto è stato il segretario provinciale Lavocchetto Gino Belisari soddisfatto per la direzione intrapresa dall'associazione stessa e per l'accreditamento ultimo dei 14 maggiori dell'anno in corso conferito dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali per l'avvio delle attività di intermediazione in qualità di agenzia per il lavoro e sensi del Decreto Legislativo 276-2003. Lo stesso segretario ha dichiarato inoltre che l'obiettivo dello sportello sarà incentrato sulla valorizzazione dei lavoratori e la facilitazione al collocamento nel mercato del lavoro fornendo informazioni sui servizi direttamente o indirettamente connessi all'occupazione con attività ammirate al reclutamento e alla pubblicazione dei curricula per favorire l'incontro tra domanda e offerta non anche l'avvio di nuove iniziative per il sistema produttivo ed imprenditoriale locale queste ultime atte al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. Lo sportello ad offrire consulenza, assistenza ed intermediazione promuovere attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro relative a comparti dell'artigianato, dal commercio del terziario con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione e riqualificazione professionale anche in collaborazione con le istituzioni regionali, provinciali, comunali non anche con altri organismi orientati a medesimi scopi con riferimento ai regolamenti del Fondo Sociale Europeo. Per tutti coloro che fossero interessati possono recarsi presso la sede di Avezzano all'indirizzo di Via Luigi Vidimari, numero 8 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, dalle 15 alle 18 e 30. 494 trapianti di rene che segnano un percorso lungo 15 anni di lunghe attese dei malati e di semafori verdi che all'improvviso si accendono e danno il via libera all'espianto. Il centro regionale per l'Abruzzo e Molise dell'ospedale San Salvatore di L'Aquila, nato nel 2001, conta di chiudere il 2016 tagliando il traguardo dei 500 trapianti di rene. L'ultimo risale alla settimana scorsa e riguardato una donazione da persone vivente. Il trapiantato sta bene ed è stato dimesso nei giorni scorsi. I più recenti trapianti, frutto invece di donazioni da persone decedute, sono stati effettuati i primi di ottobre ed hanno consentito a due malati residenti in Abruzzo di affrancarsi dalla dipendenza delle macchine. Dal gennaio scorso ad oggi sale così a 22 il numero dei reni trapiantati, in linea con la media annua che dal 2001 a oggi oscilla tra 25 e 32. Un andamento soddisfacente, visto che oltretutto non tutti gli organi disponibili risultano idonei al trapianto, a seguito delle accurate analisi e verifiche che vengono effettuate prima del reimpianto. Infatti circa il 30% degli organi potenziali oggetto di trapianto non può essere utilizzato proprio perché non supera i meticolosi esami di idoneità. La soglia dei 500 trapianti ormai vicina costituisce un fatto importante sul piano numerico e simbolico per rafforzare il fronte del sì alla donazione. Infatti i consensi dei familiari dei donatori, qualcosa di importante e decisivi per il futuro e la qualità di vita di molte persone, sono comunque al di sotto della disponibilità necessaria per rispondere al fabbisogno dei malati. Il Centro Regionale Trapianti di L'Aquila è composto dal professore Francesco Pisani, direttore dell'Echiepe Chirurgica, di cui fanno parte i dottori Quirino Lai e Linda De Luca, dalla dottoressa Daniela Maccarona del Centro Regionale, dalla dottoressa Grazia Di Francesco del Coordinamento Locale e dal professor Antonio Famulari del Coordinamento Regionale. Un'Achiepe che lavora in Stratissima Simbiosi con tutti i reparti del San Salvatore che svolgono un'azione collegiale ogni volta che occorre procedere a un trapianto. Occorre promuovere sempre più la cultura della donazione, dichiara il manager della ASL, Rinaldo Tordera, come valore di sensibilità e solidarietà sociale che oltretutto costituisce un elemento strategico per il potenziamento e lo sviluppo delle attività complessive dell'ospedale San Salvatore. Via Libera in Giunta Regionale alla ripartizione di un finanziamento di 500.000 euro per il funzionamento dei consultori familiari, pubblici e privati operanti sul territorio regionale. Il 70% del fondo sarà destinato alle strutture delle 4 ASL, il 20% a quelle private, mentre una quota del 10% servirà a sostenere le attività di formazione del personale. Ai consultori della ASL Avezzano Sulmona all'Aquila andranno poco più di 80.000 euro, 103.000 a quelli della ASL Lanciano Bastocchietti, 85.000 all'ASL di Pescara e 81.000 a quella di Teramo. Gli 8 consultori privati riceveranno ognuno 12.500 euro, mentre per la formazione saranno investiti complessivamente 50.000 euro, 30.000 per le strutture pubbliche, 20.000 per le private. I contributi dovranno essere utilizzati prioritariamente per le seguenti attività. Affettività e sessualità nell'infanzia e nell'adolescenza, educazione alla genitorialità, mediazione familiare e linea e guida sulla contraccezione di emergenza. La funzione dei consultori negli ultimi anni spesso trascurata, sottolinea Paolucci, riveste al contrario, una grande importanza nella visione del nuovo modello di sanità territoriale in cui l'integrazione dei servizi socio-sanitari è fondamentale e imprescindibile, di cui la nostra scelta di sostenerne l'attività e soprattutto la concreta operatività. Il consultorio offre un servizio socio-sanitario rivolto a uomini, donne, ragazzi, singoli o coppie per aiutare a prevenire e risolvere i problemi personali e interpersonali dei rapporti familiari o di coppia con l'aiuto di assistenti sociali, psicologi e ostetriche, ginecologi, pediatri e infermieri. Le consulenze sono gratuite, l'accesso avviene senza prescrizione medica, possono rivolgersi al consultorio, cittadini italiani, stranieri e soggiornanti temporanei. Ed è tutto pronto per la 39esima edizione della Sagra della Castagna che si trà domenica 30 ottobre a Canistro e come in ogni edizione a far da padrone ci saranno i piatti tipici della tradizione locale, il buon vino, l'intrattenimento per i vicoli, per grandi e piccini e la musica popolare. Quest'anno il concerto è affidato alla band Viterbese La Tresca. Tanto le premiazioni della dodicesima edizione della mostra contemporanea di pittura ci saranno domenica pomeriggio. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, apertura riservata come di consueto al campionato di Serie D e quindi all'Avezzano che dopo il positivo pareggio ottenuto sul campo del San Teodoro torna a giocare in casa ospitando il Monterosi. Si tratta di un avversario da prendere con le molle perché i laziali che attualmente occupano la quinta posizione in classifica possono vantare un reparto offensivo particolarmente prolifico dall'alto delle sedici reti messe a segno nelle prime otto giornate esattamente il doppio dell'Avezzano che anche per questa partita dovrà fare a meno del centro avanti Equino, ancora infortunato e dall'altra punta Bittadie è che dovrà scontare una giornata di squalifica. Ricordiamo l'ultima iniziativa messa in atto dalla società Biancoverde che a partita da domani e per tutto il resto del campionato concederà l'ingresso gratuito nel settore distinto a tutti gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori oltre a uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto per i relativi accompagnatori. E passiamo al campionato di eccellenza che vede il paterno far visita all'alba adriatica. Domenica scorsa i neroazzurri non hanno fornito una prova convincente come in precedenti occasioni e contro gli adriatici dovranno quindi dimostrare che si è trattato soltanto di un episodio. In casa giocherà invece il Capistrello che avrà di fronte il Midianico ed anche Tonino Torti avrà i suoi bei problemi da risolvere considerata l'assenza del suo attaccante più importante quel Ilario Lepre che non è dato sapere quando potrà tornare in campo. In promozione spicca su tutto il derby tra il Luco ed il Celano mentre il San Benedetto sarà ospite del Mosciano e il Balsorano del San Gregorio. Con il ritorno all'ora solare da domani le partite inizieranno alle ore 14.30. Il prossimo martedì 1 novembre nello splendido scenario del massiccio del Monte Velino si tratta alla manifestazione sportiva di corsa e montagna denominata Vertical delle Aquile. La competizione inserita nel circuito nazionale Sky Running vedrà la partecipazione dei 60 atleti provenienti da diverse regioni italiane prenderà il via da Casale da Monte situato ai piedi del Velino per arrivare fin sopra Monte Caformia. Gli atleti si confronteranno su di un percorso durissimo lungo 3,7 chilometri e particolarmente ripido. La sicurezza sul tracciato di gara sarà garantita dagli uomini del soccorso alpino stazione di Avezzano. La manifestazione sportiva è stata resa possibile grazie alle sinergie di diverse associazioni operanti nel territorio in particolare la SSD di Lapineta che gestisce il rifugio Casale da Monte e dall'associazione Sciarpa. La partenza avrà luogo alle ore 10 con premiazione prevista per le ore 13. Durante lo svolgimento della competizione sono previsti laboratori di educazione ambientale tenuti dall'associazione Naturandia per intrattenere i più giovani che fossero eventualmente a seguito delle famiglie. E questa è l'ultima notizia prima dei salutino come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque grazie per averci seguito anche oggi e rivederci. Grazie a tutti